Ciao, sono Stefano Fontanesi, l'ideatore di Camminata Metabolica, un esercizio ginnico che fa rinascere. In questo momento abbiamo bisogno di rinascere ed è anche un concetto che è legato anche a EMA, perché EMA non c'è più fisicamente, ma c'è per quello che ha fatto. Ciao, io sono Gianni, EMA mi ha lasciato una grandissima sicurezza in me e un grandissimo spirito di condivisione e di aiuto per gli altri. Ho lavorato parecchio tempo con Emanuele, sempre al suo fianco, e quello che lui mi ha lasciato, la persona, come sono cambiato io personalmente, la cosa è stata molto positiva. Ho conosciuto EMA, una grandissima persona, mi ha cambiato la vita e mi ha fatto conoscere anche... dove l'altro. È stata un'esperienza straordinaria, ho imparato tantissimo da lui come uomo, come prossimista, mi ha trasmesso la sua passione per i motori e mi ha fatto conoscere persone fantastiche come i ragazzi del team. L'amicizia, l'amicizia, condividere e aiutare gli altri il più possibile, questo è quello che ci ha lasciato e quello che porterà sempre nel cuore è una grande amicizia di un grande amico. Con il suo sorriso, con il suo amore, mi ha dato tanto per poter dare a qualcuno altro. EMA ha lasciato questa eredità, un qualcosa, un sogno, un percorso, una strada, obiettivi da raggiungere, semplici e che funzionano. Mi ha insegnato a cercare il valore nelle persone e cercare di trasmettere il mio valore alle altre persone. Ha fatto sì che il nostro team sia cresciuto molto nel tempo da un paio di anni e sono molto contento di farle parte. Il progetto Green di EMA è un'eredità straordinaria e i meccanici che in questo momento si sono radunati, si sono uniti per proseguire questo sogno, questo percorso, è un qualcosa di straordinario. Speriamo di portare avanti il sogno di EMA che era anche il nostro, di cercare di portare la banda a Caponord con altri progetti. Guardare dentro le persone, ovvero chiedere alle persone di una loro necessità e di cosa ha bisogno. EMA è un grande amico, c'è ancora nei miei pensieri. Questo sogno deve continuare, perché è un sogno Green, è un sogno per migliorare il mondo e quindi ci siamo uniti a questo sogno.